A Palermo avete un ruolo importante? A Palermo abbiamo un ruolo importante con la venuta di esponenti importanti che hanno lasciato il mondo confederale per unirsi a una lotta dove il CSA da anni lottava per avere un'autonomia, per avere un sistema completamente diverso da GGLC Slavilla. Cioè avere un modello più democratico, un modello che è più vicino ai lavoratori e non certamente un modello che è fatto solo di aspettative politiche. Le prossime sfide sono innanzitutto continuare nella crescita. Noi siamo a Palermo l'unica organizzazione che riesce ad avere una crescita veramente esponenziale ed è perché siamo tra i lavoratori e con i lavoratori. Registriamo sempre e giornalmente la presenza di tantissimi dirigenti, c'è una grossa squadra di dirigenti sindacali che sta in mezzo ai lavoratori perché sono lavoratori. E questo è il nostro punto di forza, tanto è vero che i dati, i numeri dimostrano che siamo una realtà in fortissima crescita. Nelle ultime elezioni del pubblico impiego per l'RSU ci siamo affermati come la prima organizzazione del pubblico impiego nel comparto enti locali e regioni di Palermo e provincia. Le prossime sfide sono quelle di innanzitutto in un comune come Palermo cercare di potenziare e rafforzare la contrattazione di secondo livello per il salario accessorio dei dipendenti. E soprattutto trovare quella sinergia con il governo regionale e il governo nazionale per la problematica dei precari, che è uno dei problemi più grossi che è solo siciliano il problema, le altre regioni non ce l'hanno. Il CSA adotta la politica del fare sul territorio. Noi al Comune di Palermo abbiamo una rappresentatività intorno al 53% e crediamo che i nostri associati, i nostri amici, i nostri colleghi ci seguano perché noi seguiamo loro passo passo. Siamo sempre a fianco dei lavoratori, seguiamo le politiche dei lavoratori, i problemi dei lavoratori lì sul posto di lavoro. Siamo capillarizzati, siamo in tutte le realtà lavorative e siamo persone che lavorano e che fanno sindacato.